E a questo punto c'è una nuova, una novità, arriva a salvarsi, anche perché qui si lavora continuamente, dato che stiamo lavorando un progetto, l'altra metà non c'era, il famoso Balretto, che è la Scala di Milano, ha deciso di produrre, dopo cento anni che non faceva, che non produceva una cosa su musica di un artista italiano, la c'è ripresa, e vattene fuori, volevo prendere i salrati, cosa porti, io non ne voglio dei biscotti, vieni i salrati, vieni i salrati, vieni i salrati, vieni i salrati, sei su Facebook, sei su una camicia giusta, sì, sembra che sei giusta, è giusto, una camicia a vincare, andiamo anche a me, sono stato molto attento, anche se non sapevo che andava sul vento, perché le cose non si sanno mai, la vita è così, non si può provare prima come una commedia, è più improvvisata, c'è un altro caso, è chiaro di una riflessione, perché mi sono accorto della fronte, talmente, a di arte, che le riflessioni mi vengono così, a rotto di collo, e anche le cose, perché in fondo che ho messo su, come dicevo, ah questa è la radio, RDS, radio svegliat.it, che praticamente significa, no, radio svegliat.it, ho qualche problema con, ho avuto a parlare con gli acronimi da un po' di tempo, non so, tutto con le scelte delle cose da far sentire o no, sai che stavo a pensare, la compilation, come si diceva al tempo, no? potrei anche mettere una cosa per un bel casino, allora potremmo mettere un po' di tempo, un po' di tempo, un po' di tempo, un po' di tempo. un senso non c'era. Un senso non c'era, un senso non c'era, un senso questa sera non c'era, un senso da che amici dei salvati non c'era, non c'era un senso, il senso è una cosa di cui abbiamo bisogno noi, abbiamo bisogno della nostra mente, noi dobbiamo dare un senso a tutto e quindi dobbiamo dare un senso anche alla vita giustamente, che non c'era nella natura il senso, non ha un senso, la vita esiste e basta, la vita esiste e basta, noi viviamo il senso, quindi se voi non rispettate la vita perché non è vero, la rispettiamo talmente tanto che noi la vita la viviamo, se no non la viviamo, se sembra poco rispetto a questo è... sentami tutti, sai che cosa penso, che se ne ha un senso, allora vi vedete la prossima volta o meglio, non si sa, non c'è, mai gli appuntamenti a lungo termine, vediamo. Sì, non c'è, mai gli appuntamenti a lungo termine, vediamo. Sì, non c'è, mai gli appuntamenti a lungo termine, vediamo.